Ok, perfetto. Allora posso fare il buonasera a tutte e a tutti di Rito. Grazie per essere qua stasera, una serata a cui abbiamo tenuto molto perché ci sembra che il tema e il concetto del bene pubblico sia di più attaccato ancora di più se è possibile di quello che già sta accadendo nel corso degli ultimi 15-20 anni. Abbiamo molti relatori e relatrici che ringraziamo già fin da ora per essere presenti, mi permettete in particolare vorrei ringraziare Cicciaoletta perché domani mattina ha un treno alle 5 ma ha voluto essere qua con noi. Vi faccio una presentazione veloce dei relatori e dei relatrici, una brevissima introduzione perché abbiamo i tempi molto contingentati. Invito anche i nostri ospiti a stare nei tempi sapendo che le tematiche sono in realtà meriterebbero assolutamente ognuna delle tematiche che andremo a affrontare questa sera un incontro dedicato. Noi durante l'anno scorso avevamo fatto durante l'inverno una serie di approfondimenti di Milano in Comune che ne abbiamo discusso come coportavoce io e Gabriele Mariani ci impegniamo a riprendere proprio perché c'è bisogno di approfondire quello che sta accadendo e che troppo spesso viene nascosto da informazione mainstream tutta focalizzata su una sola tematica, prima era la pandemia, oggi è purtroppo la guerra in Ucraina e mentre invece tutto ciò che è il processo di privatizzazione dei beni comuni che dà il titolo a questa nostra serata continuano ad andare avanti e prendere piede. Allora vi faccio l'elenco veloce delle persone, gli ospiti che abbiamo e poi comincerò a passare la parola alla prima invitata. Abbiamo Marianne Geravilla dell'Associazione Costituzione Beni Comuni, Ericka Rodari del Comitato Acqua Pubblica Milano, Gabriele Mariani, coportavoce dell'Associazione Milano in Comune Sinistra e Costituzione che ha organizzato questa serata il nostro sindaco in peccore, Luca Massari del Comitato Palazzina Liberty Bene Comune, Marco Cicognini che è stato candidato al Municipio 2, sempre con Milano in Comune alle scorse amministrative e come dicevo Ciccia Oletta, consigliere comunale di una città in comune partita dalla Rifondazione Comunista di Piva. Ognuno di loro ci parlerà appunto di un bene comune in corso di attacco piuttosto che privatizzazione. Soprattutto e su questo passo la parola subito a Marianne Geravilla in questi giorni, in questo periodo, incombe il cosiddetto DDL concorrenza che, come dire, contiene al proprio interno, sancisce al proprio interno proprio una scelta politica di come dirigersi, di come attuare da un punto di vista governativo rispetto agli enti locali e rispetto appunto a quelli che sono i beni pubblici e quindi i beni comuni. Quindi io mi taccio promettendo, rispettando esattamente quello che è il rispetto dei tempi, passando la parola a Mariangela Villa. Certo che si possono fare foto. Buonasera a tutte e a tutte, grazie per questo invito. Io vorrei partire dal titolo di questa serata, quando tutto sarà privato, saremo privati di tutto. Mi sembra un titolo molto azzeccato. Mi viene da dire forse di tutto no, ma una cosa è certa. A quel punto la nostra carta costituzionale sarà carta straccia, perché la società che avremo creato non sarà quella società che la nostra Costituzione prevede che si debba creare. Io credo che per qualsiasi considerazione si dovrebbe sempre partire da un principio che è responsabilità della Repubblica la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini ed è proprio per sostanziare questo che la Costituzione crea una sorta di gerarchia tra i principi costituzionalmente garantiti. Per la nostra Costituzione la proprietà privata non è un diritto assoluto, non è compreso tra i diritti inviolabili della persona, ma deve o forse sarebbe più corretto dire dovrebbe essere disciplinato dalla legge in modo tale che ne sia garantita la funzione sociale e l'accessibilità a tutti, come recita l'articolo 42. Ma anche la libertà di impresa e quindi il libero mercato non è assunto come bene assoluto. L'articolo 41 dice che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali. Io credo che sia importante rimarcare il fatto che citi anche pubblico perché pubblico non deve essere un semplice aggettivo aggiunto, pubblico deve sostanziare il contenuto e le scelte che vengono fatte dalle imprese. Non si tratta quindi a mio avviso di essere ideologicamente contrari al mercato ma di avere ben presente che senza opportuni programmi e controlli sociali e sottolineo sociali e istituzionali l'iniziativa economica essenziale anch'essa per una buona società si indirizza su sentieri speculativi che producono un male comune non un bene comune. Arriviamo quindi al DDL sulla concorrenza e mercato che finora per il momento è stato adottato una sola volta solo nel 2017 ma in questo caso il DDL che è stato approvato lo scorso 4 novembre è stato presentato e approvato dal Consiglio dei Ministri questo disegno di legge delega per il mercato della concorrenza attualmente si trova un po' in discussione alla Commissione Industria per il Senato però questo è importante perché stavolta questo disegno di legge è abilitante rispetto al PNRR e questo è una cosa che bisogna avere presente. Allora si tratta di una legge abbastanza nell'insieme come spesso le leggi abbastanza complesse però c'è una peculiarità i suoi obiettivi sono estremamente chiari e sono estremamente esplicitati già nel primo articolo promuovere lo sviluppo della concorrenza rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura del mercato garantire la tutela dei consumatori il tutto si dice per rafforzare la giustizia sociale la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici la tutela dell'ambiente il diritto alla salute dei cittadini per cui secondo il governo quindi la concorrenza non è solo uno strumento di mercato ma può anche contribuire a proteggere interessi non economici della comunità e delle persone più vulnerabili io credo che già in questo ci sia il primo limite perché ontologicamente il mercato di per sé non contribuisce alla giustizia sociale che la costituzione non a caso affida la repubblica e le sue componenti state e autonomie locali e libero mercato non garantisce la concorrenza se non c'è una regolamentazione e dei seri controlli pubblici in modo tale che la concorrenza venga in modo leale il ddl concorrenza prevede tutta una serie che vanno di cose che vanno dalla mappatura delle concessioni in essere alle disposizioni in cui le concessioni dovrebbero essere date comprende le concessioni per quanto concerne i vaccini idrici poi una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti degli impianti nonché un'eventuale possibilità di cedere che queste vengano cedute al gestore poi e poi una delega e questo il cuore del ddl è una delega al governo in materia di servizi pubblici locali mentre per la sanità giusto per restare in tema con la nostra regione prevedono agevolazioni all'accesso all'accreditamento delle strutture sanitarie private come dicevo prima il meccanismo pericoloso l'architrave di tutto il ddl sta nell'articolo 6 in cui emerge come centrale non l'idea di un servizio a tutela dei diritti ma il rispetto della tutela della concorrenza cioè di fatto una via libera si dà una via libera alle privatizzazioni di tutti i servizi locali senza differenziare i servizi a valenza economica e non per cui non parliamo poi nel dettaglio di questo delle ricadute ne parlerà ne parlerà nello specifico Erika però credo che sia giusto rimarcare anche i servizi quando si dice si intendono servizi non a valenza economica vuol dire che si parlano poi anche di servizi sociali servizi culturali servizi sportivi e a questo proposito si deve già anche ricordare che già nella riforma del terzo settore a cui poi il ddl si dice che deve armonizzarsi è già previsto che per quanto concerne gli enti locali che intendano sottoscrivere delle convenzioni con delle associazioni di volontariato di promozione sociale debbano motivare per motivare la maggiore convenienza a seguire questa strada anziché a rivolgersi al mercato di fatto si tratta di una limitazione cioè si vuole limitare in maniera decisa il ricorso all'autoproduzione del servizio compresa la vera e propria gestione pubblica per cui ecco che l'ente locale viene spinto a forme di gestione più privatistiche forse da alcuni enti locali la cosa può piacere ma sicuramente non non rispetta il nostro interesse come cittadini per cui è perché ancora una volta non si comprende come una gestione privata di per sé stesso orientata al profitto possa contribuire alla giustizia sociale questa spinta alla privatizzazione viene giustificata con il fatto che ce lo chiede l'europa ma questo è un mantra che spesso ci viene ripetuto ma non corrisponde del tutto al vero è indubbio che da parte della della commissione da parte della dpce ci siano stati in questi anni una spinta alla privatizzazione a far far sì che anche soprattutto per quanto concerne tutti i servizi perché sono dei business assicurati nel senso che una volta che si è preso la concessione la gara ci può essere sulla concessione ma in molti casi poi di fatto lavora è un regione di monopolio perché non è che l'acqua la prendo da te o da un altro o l'autostrada o faccio questa o faccio l'autostrada o faccio tutto il percorso allora per cui l'almantra è anche quello solito meno pubblico più privato ma soprattutto più finanza persino in quei settori perché come dicevo e poi tratterà erica proprio perché monopoli naturali dovrebbero essere esclusi dal perimetro delle privatizzazioni dicevo che non ce lo prevede questo rispetto ai servizi pubblici locali perché eh l'articolo due della direttiva volkestein prevede espressamente che i servizi pubblici essenziali per cui parliamo di sanità istruzione e trasporti e tutta la partita dell'assistenza sociale possono essere gestiti in regime di monopolio sotto il controllo pubblico in deroga alle dispo quelle che sono a disposizione sulla concorrenza e il mercato europeo inoltre e questo è anche stato affermato poi da una risoluzione del del Parlamento europeo che che le decisioni su cui poi debba essere considerato servizio di interesse generale come debba essere gestito va innanzitutto preso a livello locale inoltre questo un'altra cosa pericolosa sempre contenuto nell'articolo in questo articolo 6 questo DDL trasforma in modo la funzione stessa dei comuni che da presidi di democrazia poi insomma si può anche poi entrare e discutere poi dai singoli poi come vengono di fatto gestiti perché però diciamo in teoria dovrebbe essere dei presidi di democrazia perché sono sicuramente l'istituzione più vicina ai cittadini per cui a questo punto corrono se già in alcuni casi lo sono corrono a questo punto dire il rischio di diventare veramente dei gusci dei gusci vuoti e questo va con un contrasto anche con quello che è il testo unico degli enti locali che che prevede che spettano al comune tutte le funzioni amministrative e ne promuovano che riguardano la popolazione il territorio in particolare nei servizi della persona comunità per cui oltretutto l'autonomia locale è inserita anche nella costituzione e anche per concludere al di là del fatto che credo che ci siano proprio dei passaggi degli articoli che siano costituzionalmente cioè che non siano in linea con la costituzione ma credo che sia tutto l'impianto di questo ddl sia in contrasto con la costituzione perché la costituzione pone al centro la persona inserita in una rete di relazioni di dignità ai diritti la solidarietà e non certamente la massimizzazione del profitto grazie grazie mille maria giuda soprattutto per nei tempi nei tempi precisissima come avevamo concordato una delle parole che hai che ha attraversato il tuo intervento era costituzione no che alla base poi del concetto stesso di bene pubblico di fruizione del bene pubblico allora io nel passare la parola a erica rodari del comitato acqua pubblica milano notavo prima che la maggior parte dei nostri ospiti noi compresi questa sera ha nel nome della realtà che sta rappresentando stasera o il concetto di pubblico o il concetto di in comune è una cosa che ci accomuna e che attraversa le scelte che noi abbiamo fatto nel passare allora la parola erica mi preme solo ricordare come si vede dal manifesto che abbiamo la quotazione dell'acqua in borsa quindi questa scelta di un bene primario fonte di vita che diventa quotato nella massima espressione di quel mercato di cui ci parlava mariangela così come la scelta di quotare le risorse i boschi le piante cioè fare proprio dei dei bond dedicati a questo questa è la direzione verso cui si sta andando con una scelleratezza che non ha confini e non ha paragoni quindi passo la parola erica comitato acqua pubblica milano che toccherà non solo i temi a cui faceva riferimento mariangela ma anche tutto ciò che la sperimentazione rispetto all'acqua e al bene acqua grazie intanto saluto tutti ringrazio a scusa ringrazio milano in comune per l'invito scusa mi ti devo interrompere che sono mi sono dimenticata di dare il benvenuto alle parlamentari simona suriano e jana m che sono appena arrivate perdona l'interruzione me l'ero scritto e me lo sono dimenticato allora vi stavo giusto ringraziando per l'invito e per aver creato questa occasione di discussione di un tema che in questo momento è francamente caldissimo anche se purtroppo troppo pochi ne sono a conoscenza e troppo pochi ne ne stanno parlando in mezzo a tutte queste emergenze che ci stanno travolgendo e che spesso vengono enfatizzate usate strumentalmente mi viene da dire facciamo un attimo il punto eh dove ci troviamo in che fase siamo in questa situazione io credo che con il pnrr il piano di riprese resilienza e eh il ddl concorrenza siamo a un punto decisivo che più stringente di così non potrebbe essere è proprio un punto di demarcazione sia sociale che direi anche culturale da una parte il rispetto dei diritti e della costituzione dall'altra tutto merce anche le persone e la vita siamo non è che questo sia una novità no è un po' è nella logica del nostro sistema però siamo veramente nel momento culminante in un momento cruciale in cui si stanno facendo eh delle scelte che eh rischiano di diventare se passano così pesantemente irreversibili tutto questo però non nasce dal nulla in due parole è bene fare un attimo di storia no per capire quali sono le gli antesignani segnali che ci sono stati che andavamo a finire qui intanto è ovvio che la base di tutto questo è il sistema stesso in cui viviamo no che mette a primo posto mercato e profitti ma nello specifico se risaliamo al duemilaquattro eh con la direttiva Bolkenstein che ha già eh ricordato Michela ehm Mariangela la commissione europea presidente Prodi aveva presentato il primo tentativo strutturato di mettere sul mercato tutti i servizi pubblici dalla sanità all'acqua eccetera in nome come sempre della libera concorrenza ormai l'abbiamo capito che libera concorrenza significa sottrarre al pubblico la gestione dei servizi dei beni comuni per darla ai privati perché ci facciano sopra i loro profitti grandi manifestazioni e grandi proteste al tempo fecero in parte purtroppo non totalmente in parte saltare la direttiva Bolkenstein per fortuna poi nel duemilaundici poche settimane dopo il referendum che sicuramente tutti ricordate è arrivata al governo italiano la lettera Draghi e eh Trichet che con la scusa del grande debito pubblico del nostro paese chiedeva la privatizzazione su larga scala di tutti i servizi pubblici locali adesso strumentalizzando le emergenze anche lì hanno ci hanno tentato in parte ce l'hanno fatta ma non del tutto adesso strumentalizzando le emergenze presenti pensano che finalmente forse ce la possono ce la possono fare a mettere tutto sul mercato se non riusciamo a bloccarli la pandemia la crisi climatica la crisi sociale hanno evidenziato a tutti i fallimenti delle logiche di mercato e la necessità di un'inversione di rotta il governo Draghi invece ci ha messo sul piatto il disegno di legge concorrenza la formula è come al solito crescita competitività concorrenza che significa appunto semplicemente privatizzare e significa l'assalto ai eh servizi pubblici acqua energia trasporti pubblici sanità eccetera ora non è che l'emergenza non esista lo sappiamo tutti che esiste perché ci siamo dentro il problema è che non è perseguendo la stessa strada che ci ha portato all'emergenza che riusciremo riusciremo ad uscirne anzi stiamo andando infatti a un peggioramento abbiamo già sperimentato cosa significano le privatizzazioni nessuna cura delle risorse naturali dell'ambiente dei diritti peggioramento dei servizi aumento delle tariffe questo è un tema molto sensibile in questo momento no perché le bollette stanno aumentando esponenzialmente ma questo è successo già prima della guerra quindi questo chiarisce un concetto che è in atto un'enorme speculazione questa è la verità un'enorme speculazione sull'energia con una serie di di scusanti eccetera eccetera c'è una speculazione enorme che prescinde anche dalla guerra questo ci deve essere ci deve essere molto chiaro ora per quanto riguarda l'acqua quando si parla di acqua io credo che sempre per prima cosa dobbiamo ricordarci che non è una risorsa inesauribile l'acqua è l'acqua potabile è una risorsa esauribile che tra l'altro con i cambiamenti la crisi climatica si sta rarefacendo e soprattutto dobbiamo ricordarci che l'acqua è una risorsa indispensabile alla vita questo è molto importante averlo in mente perché ci rendiamo conto a maggior ragione della adesso uso una parola grossa comunque della criminalità che c'è sotto certe intenzioni di privatizzazione nella quarta linea di azione del piano di resilienza e resistenza che si chiama tutela del territorio della risorsa idrica si dice piano di resistenza da cui discende il decreto il disegno di legge scusate il disegno di legge concorrenza si dice in questa in questa linea che bisogna puntare all'efficienza cioè si dice che nei servizi pubblici in particolare nel servizio idrico ci vogliono gestori efficienti allora come si misura questa efficienza però non c'è scritto da nessuna parte non si sa qual è la misura in realtà si capisce che il tutto è per aprire la strada alle multi utilities del centro nord e le multi utilities italiane era c'è la nostra a2a in lombardia e iren aprire la strada la conquista in particolare del servizio idrico queste multi utilities sono quotate in borsa quindi ci ricordiamo cosa vuol dire quotare in borsa no sono quotate in borsa e perseguono il profitto per questo sono considerate efficienti siccome sono quotate in borsa devono per forza essere efficienti cosa che è una palla colossale hanno capitale misto pubblico e privato le multi utility ma come noto queste situazioni in realtà sono situazioni in cui comunque comandano i privati perché loro hanno l'amministratore delegato che quello determinante e quindi il pubblico sostanzialmente è semplicemente un un figurante e poi chi l'ha detto che queste che questi tipi di società sono più sono più efficienti allora noi e non è una posizione ideologica non è una teoria è una realtà di fatto dove anche dove gestiscono i servizi il queste le multi utility non è stato fatto niente per migliorare le condizioni in particolare per quanto riguarda per esempio l'acqua la perdita delle reti idriche che in italia una una piaga assoluta c'è un 42 per cento di perdita media a livello nazionale noi lombardia siamo fortunati più bassa ma la media è del 42 per cento la perdita delle reti non è stata minimamente risolta le tariffe sono alte e i disservizi sono continui il cittadino non ha nessuna possibilità di influire nelle scelte o comunque di avere un rapporto paritario con chi fornisce un servizio essenziale alla sua vita come appunto il servizio il servizio idrico oltretutto si esercita appunto questo ricatto no eh o tu ehm privatizzi dai in mano metti sul mercato questi questi servizi oppure i fondi del PNR non ti arrivano oltretutto questa è l'ennesima violazione della volontà popolare che si espressa nel 2011 oltretutto quando si parla di servizio idrico non si capisce di quale concorrenza parliamo qual è la concorrenza dal punto di vista del servizio idrico visto che l'acqua è un monopolio naturale per questo fa tanta gola no perché garantisce guadagni certi e eh molto alti che invece di essere reinvestiti come dovrebbe essere appunto per riparare le reti migliorare il servizio eccetera questi guadagni diventano profitti da distribuire eh dividendi da distribuire ai soci oltre alla esautorazione del ruolo degli enti locali che questa impostazione comporta di cui ha già parlato Maria Angela allora è assolutamente necessario bloccare questo DDL e in particolare il eh l'articolo numero 6 che comprende tutte queste cose di cui abbiamo parlato adesso eh c'è una riformulazione di questo articolo 6 che però non si conosce e che dovrebbe contenere un allentamento di questi vincoli per la gestione pubblica ma è tutta una teoria in realtà non si sa cosa ci sia in questa riformulazione la commissione eh industria del senato che deve valutarla eh ad oggi viene continuamente convocata e sconvocata il che significa che ovviamente non c'è assolutamente accordo nel governo nelle forze di governo su come ehm affrontare questa cosa c'è eh ovviamente ci sono dei contrasti il problema è che dobbiamo eh continuare continuare nella mobilitazione la mobilitazione c'è c'è stata c'è continua ci sono stati molti incontri con i gruppi parlamentari ci sono stati presidi eh in quasi tutte le città d'Italia è passato l'ordine del giorno eh contro il per lo stralcio dell'articolo 6 dal decreto dal disegno di legge scusate continuo a dire decreto eh bisogna continuare questa mobilitazione perché eh si riesca in qualche modo ad arrivare a un risultato positivo perché se questo articolo 6 passasse così sarebbe veramente una asfaltatura asfaltatura generale ora ehm una parola solo eh sulla questione del referendum in tutte le discussioni che sono state fatte anche a livello nazionale su questo disegno di legge è venuta fuori la domanda ma se passa così questo articolo 6 eh è possibile fare eh un nuovo referendum considerando il fatto che con questo articolo si fa un passo indietro addirittura rispetto all'articolo 23 del decreto Ronchi che è stato appunto abrogato nel 2011 allora viene spontanea questa domanda cosa facciamo è possibile un nuovo referendum questa cosa è piuttosto eh complicata perché il questo disegno di legge è collegato alla legge di bilancio la legge di eh bilancio eh non non è è referendabile secondo l'articolo 75 della costituzione però ci sono degli spiragli eh diciamo che dei costituzionalisti che sono stati interpellati dicono che potrebbe in particolare per quanto riguarda il servizio idrico potrebbe eh esserci la possibilità di indire un nuovo referendum sulla base di un articolo di una legge del 2015. comunque queste sono tutte cose di cui si parlerà in seguito no nel caso in cui l'articolo 6 passasse così eh per ora ehm dobbiamo continuare la mobilitazione e dobbiamo cercare di di bloccare questa macchina infernale perché altrimenti rischia che noi da un giorno all'altro ci svegliamo in un mondo che è ancora peggiore di quello di quello che c'è di quello che c'è adesso in cui stiamo in cui stiamo vivendo. eh scusate io volevo dire ancora due parole ho chiesto il permesso alla presidenza vorrei dire ancora due parole veloci su una questione che a sua volta grida vendetta che pochi conoscono di cui nessuno parla è passata sotto traccia sui giornali quasi non se ne è sentito che però è una cosa micidiale che ha un legame preciso con eh il PNRR e con il disegno di legge concorrenza. cioè fa parte della stessa logica. Si tratta del patto per Napoli. Non so quanti di voi ne abbiano sentito parlare. Allora in questo patto per Napoli che cosa succede? si introduce un modello perverso per il ripianamento del debito da parte dei comuni particolarmente indebitati. Questi comuni particolarmente indebitati sono Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo. la prima cavia è stata Napoli. È un accordo tra istituzioni e cioè lo Stato in venti anni erogherà due miliardi e mezzo a condizioni che ricordano quelle della Grecia di Tsipras se vi ricordate. quando lui era alle prese con la Troica e a un certo punto si è tolto anche la giacchetta e ha detto volete anche questa. Ecco il livello del patto di Napoli è questo. il comune si impegna a restituire ogni anno una parte della cifra. E da dove deve ricavare questa cifra? È detto precisamente da dove la deve ricavare. La deve ricavare dal taglio delle spese sociali, dall'aumento delle tariffe, dalla vendita delle quote che ha nelle partecipazioni e dalla vendita del patrimonio immobiliare. da questo punto di vista InVimit, l'Agenzia Nazionale che si occupa della valorizzazione del patrimonio pubblico, valorizzazione vuol dire privatizzazione, ha già avuto l'incarico di procedere. Ci sarà un controllo semestrale da parte della Corte dei Conti che in qualunque momento può sospendere l'erogazione dei fondi. È chiaro che si tratta di una tagliola micidiale, cioè proprio un cappio stretto al collo. Sulla cittadinanza quindi si scarica l'onere di ripianare questo debito che è lievitato negli anni per cause improprie, soprattutto per i tassi di interesse da usura praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti da quando è stata privatizzata. In questo patto c'è una torsione totale del principio di solidarietà tra istituzioni, nel senso che non esiste più nessun principio di solidarietà come previsto dalla Costituzione, ma semplicemente l'istituzione più debole viene completamente tiranneggiata e schiacciata dall'istituzione più forte, in questo caso il Comune e lo Stato. Alla fine di tutta questa operazione il contributo dei cittadini supererà quello dello Stato stesso e si ritroverà con tutto privatizzato. Il Comune resterà il famoso guscio vuoto e le ricadute saranno molto pesanti. Allora ci rendiamo conto di cosa vuol dire tutto questo per una città già molto provata come Napoli. Sappiamo che c'è un'altissima disoccupazione, dispersione scolastica, servizi scadenti se non inesistenti, sanità allo sbando, penso che abbiamo visto tutti recentemente questo servizio sul Cardarelli di Napoli che potrebbe essere un punto d'eccellenza, ma che a causa del taglio delle risorse alla sanità, adesso anche per darli alle armi, è lasciato completamente allo sbando. Allora ci tenevo a illustrare questa situazione perché non so come mai non se ne parla, ma è una cosa di una gravità enorme e che comunque discende dalla stessa logica di cui abbiamo parlato prima. Questo modello può anche piacere, per esempio sicuramente a Sala piacerebbe, tant'è vero che ha bloccato 200 milioni di spesa sociale, questo tanto per portare il discorso un attimo sul livello locale, ma sono due parole, e sta svendendo tutto il possibile ai privati. Poi qualcuno ce ne parlerà molto bene nel merito. Allora, dov'è il ruolo di garante della comunità, del Comune e di questo sindaco? Non c'è. Ci stanno preparando questa Milano Smart City, questa Milano Escludente, questa Milano per i ricchi, allora dobbiamo dire forte che questo modello non lo vogliamo e non ci piace. Grazie Erika che mi costringe a chiedere di rimanere nei tempi. No, volevo ringraziarti per averci ricordato da dove arriva la situazione attuale, perché a volte ci capita di, sembra che ci svegliamo da un giorno con l'altro e ci troviamo in guerra, piuttosto che ci troviamo con le cose privatizzate senza leggere quello che accade. E anche credo per aver evidenziato quanto serva agire insieme, facevi riferimento a un'epoca in cui le mobilitazioni hanno bloccato, non è certo l'epoca che viviamo noi oggi, quella delle grandi mobilitazioni. Però vi anticipo che in particolare sul DDL concorrenza stiamo lavorando perché il 14 maggio, giornata di mobilitazione nazionale, ci sia qualcosa anche a Milano, quindi vi aggiorneremo quanto prima. Credo che, nel passare alla parola a Gabriele Mariani, come concludeva Erika, Milano sia il punto di massima espressione di questa svendita, di questa corsa, una narrazione di competizione. Ci ricordiamo tutti, Milano non si ferma anche durante la pandemia, Milano non si ferma anche appunto nel regalare ai privati tutto ciò che è pubblico, a partire dal territorio e sul concetto di territorio passo la parola a Gabriele Mariani che molti di voi ricorderanno anche durante la campagna elettorale aveva proprio nella battaglia rispetto alle modalità con cui il sindaco uscente, rinominato nuovo sindaco, stava regalando pezzi interi della città ai privati, togliendoli appunto alla cittadinanza. Gabriele Mariani, coportavoce di Milano in Comune. Grazie, grazie Anna. Allora, io riprendo volentieri lo stimolo che ci ha dato Mariangela Villa nel suo primo intervento e ha citato espressamente l'articolo 42 della Costituzione che io intenderei, la seconda parte, rileggerlo perché è un po' la marca di quello che vorrei trasmettervi stasera e sulle quali vorrei invitarvi a riflettere. Allora, l'articolo 42, secondo capoverso, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Allora, la gestione del territorio, dello sviluppo del territorio è prettamente una potestà delle istituzioni locali, insieme a quelle regionali, ma del comune. Quindi, per esempio, tutta la città che noi vediamo oggi è frutto di scelte che le varie giunte che ci hanno preceduto hanno fatto nei decenni precedenti. La Milano che vedremo domani è frutto delle scelte che facciamo oggi. E la proprietà privata e il concetto di bene pubblico sul territorio si intersecano perché se io sono proprietario di un suolo privato, la capacità edificatoria e le plusvalenze, cioè la ricchezza che genero dalla trasformazione, non dipende solo dal fatto che io possiedo di una superficie di un tot di lunghezza e un tot di larghezza che è mia, ma dipende dal fatto che l'istituzione pubblica, attraverso i suoi strumenti di pianificazione, decide quanto io lì possa costruire, possa fare e quindi quanta ricchezza io possa generare, prelevare e tenere per me. Quindi, una cosa, noi stiamo parlando di beni comuni, un bene comune che fisicamente non è molto prossimo al nostro pensiero, ma un bene comune per eccellenza, la cui gestione dipende dai nostri eletti in Consiglio Comunale e quindi anche in Giunta, è esattamente il modo in cui il territorio viene trasformato. E allora, un buon governo della città, tra le varie leve che ha, ha anche, per ridurre le disuguaglianze, la leva di come sviluppare la città e quindi di come veicolare la ricchezza che viene investita e come vengono poi redistribuite le plusvalenze che vengono generate. Allora, qui abbiamo le due parlamentari che non sono di Milano, ma gli abbiamo avuto già il piacere di incontrarle ieri, l'argomento è di carattere anche generico, ma in particolare a Milano è dove questo tema si articola, si manifesta nella sua più cruda e falsa realtà. Cruda nel senso che c'è la pelle dei cittadini, delle cittadine milanesi che soffrono per la crisi economica e allo stesso tempo vivono in una città dove il reddito medio è tra i più alti d'Italia e anche falsa narrazione della realtà perché veniamo anche da un decennio in cui questa realtà che vivono cittadine e cittadini milanesi è palesemente negata dalle istituzioni, ma anche palesemente negata dalle versioni milanesi dei quotidiani mainstream, stampa, media e tv. Allora, dal 2010 al 2020 ogni milanese medio ha avuto una perdita di 1000 euro nel proprio salario medio annuale, dal 2010 al 2020. Le imposte sono scese perché è diminuita la ricchezza dal 7,6 al 6%, con un calo di 1,6 punti percentuali. Gli utili prodotti all'interno della città invece sono aumentati dal 10,2 ai 15,5, quindi sono aumentati di oltre 5 punti percentuali. Il 24,4% dei giovani è disoccupato. La quota dei salari rispetto al prodotto lordo prodotto è rimasta costante, mentre gli utili mostrano quindi un chiaro livello di aumento, una tendenza di aumento. Allora, questo è un quadro di una città in sofferenza. Ci verrebbe da dire, ma c'è la crisi economica. Però, dal 2017 al 2018 a Milano sono arrivati circa 25 miliardi di euro di investimenti dei fondi internazionali, che corrispondono al 40% di tutti gli investimenti internazionali su tutto il territorio italiano. Dal 2019, nel prossimo decennio, sono stimati in arrivo da scenari immobiliari, quindi da studio autorevole, altri 13 miliardi di euro. Quindi, in un ventennio, in questa città, solo di investimenti su grandi interventi, pervengono 28 miliardi di euro. Allora, noi siamo nella città dove c'è il più grande fervore di investimento, quindi di produzione della ricchezza, ma siamo anche, forse, nella città in Italia, in cui questa ricchezza viene maggiormente sottratta ai cittadini. Cittadini, il cui fatto che venga prodotta questa ricchezza dipende esattamente dalla loro potestà, intermediata dalle persone che hanno eletto nelle istituzioni pubbliche. E quindi da qui arriviamo alla palese dimostrazione che l'articolo 42 della Costituzione italiana a Milano non è declinato come dovrebbe essere, perché non è possibile che in una città dove il reddito medio sia tra i primi in Italia vi sia il 9% dei milanesi che possiede un terzo della ricchezza. Allora, è evidente che l'amministrazione pubblica non ha agito in questo decennio, ma aggiungiamo anche nei decenni precedenti, ma in questo decennio mi impreme particolarmente perché c'è il cosiddetto centro-sinistra al governo della città, in questa città non sono state fatte politiche territoriali di ridistribuzione della ricchezza. Dimostriamo questa cosa, lo dimostriamo come? Per esempio, scali ferroviari, classico bene comune, l'area su cui sorgevano gli scali ferroviari. Allora, se lo dico spesso questo, ma veramente vi dà il quadro di come viene gestito in maniera diseguale il territorio e di come l'interesse pubblico si pone solo come un derivato, come uno strumento riparativo degli effetti delle disuguaglianze e non costituisce esso stesso un programma di trasformazione della città. Allora, se voi prendete tutta la volumetria concessa sulle aree degli scali, tutta, e la dividete per 60 metri quadri, che corrisponde a un bilocale medio, giusto per darvi l'unità di misura, sugli scali ferroviari si prevede di costruire circa 11.500 appartamenti, che poi non saranno 10.500 perché non tutte quelle sono le superfici, però usiamo quell'unità di misura. Bene, voi sapete che a fronte di 11.000 appartamenti, diciamo quasi sul libero mercato, oppure a compatto di futura vendita, 385 sono gli appartamenti previsti a canone agevolato. Quindi questo vi dimostra come il Comune di Milano, questo sindaco uscente e poi rientrante, aveva avuto per le mani uno strumento dove a fronte della trasformazione degli scali, dove io già dal 2017 ho affermato e non sono mai stato smentito, l'ho anche detto in Commissione Consigliare, genera oltre un miliardo di utili per gli operatori immobiliari, ecco, non si è stati capaci di captare parte di queste presidenze per costruire vere case a basso reddito, ma ci si è smossi sempre in quell'area grigia dell'edilizia residenziale sociale dove di fatto i canoni d'affitto non sono quelli adeguati alle reali esigenze del potere d'acquisto dei milanesi impoveriti dal costo della vita e dall'incremento del valore immobiliare, dall'incremento delle case e via dicendo. Ma un altro modo per generare diseguaglianza è anche quello di abdicare a uno sviluppo programmato della città, perché se io so che a Milano la povertà aumenta, le diseguaglianze aumentano, il primo compito che ho è di programmare, oltre ovviamente agli altri strumenti, ma io mi occupo di questo tema, lo sviluppo della città in modo per ridurre le diseguaglianze. Allora, per esempio, abbiamo un piano di governo del territorio che deliberatamente nella sua parte iniziale, nel documento di piano, dice chiaramente che ci vuole un'urbanistica abbastanza agile, che non si infermi nelle pastoie, proprio i classici discorsi della destra sono questi, che non si metta nelle pastoie della burocrazia, che segua le condizioni del mercato. Allora, se io da un lato non programmo e dall'altro sviluppo il territorio come si sta facendo qui, attraverso le sei aree degli scali ferroviari, le otto aree delle grandi funzioni urbane, il progetto Reinventing City, dove altre aree pubbliche vengono messe a bando col project financing, vuol dire che deliberatamente io creo dei buchi nella planimetria della città, dove dico qui non c'è programmazione, qui c'è un accordo pubblico-privato. Allora, nel momento in cui il pubblico dimostra chiaramente di non volere metterci la testa per captare la ricchezza prodotta in questa città, mi chiedo qual è la qualità degli accordi che verranno fatti tra pubblico e privato in queste aree? Il tempo vola... Allora, quindi vado alla fine del mio intervento. Quello che c'è bisogno è che tutti noi siamo coscienti dei diritti che ci vengono negati. Quando vedete un grattacielo figo, costruito, e magari arriva l'archistar di turno che vi parla di quanto è bello, vi è stata sottratta ricchezza. Voi non solo vedete una cosa bella, ma vedete una cosa che avrebbe potuto generare ricchezza per voi, per noi, ma non lo ha fatto. Ricordo un'ultima cosa, Milano è la repubblica delle banane delle grandi capitali europee, dove gli oneri di urbanizzazione, cioè le tasse che il privato paga al pubblico, sono un sesto che è in Germania e un quarto che è in Francia. Quindi Milano si pone sul panorama delle capitali europee come la repubblica delle banane, come dove arrivano gli investitori finanziari e fanno di fatto quello che vogliono. Lo fanno quello che vogliono, perché lo strumento pianificatorio stesso del governo del territorio genera apposta dei buchi per fare l'accordo pubblico-privato nel chiuso di una giunta comunale. A Milano abbiamo bisogno di un modo diverso di costruire. Non so quanto centri con la parte finale del mio intervento, ma vi voglio citare un bellissimo passaggio di Adriano Olivetti che ha scritto 60 anni fa nel suo libro Noi sogniamo il silenzio. Concludo così. Le radici dell'uomo sono nella natura e nel paesaggio. Vale quindi la pena affrontare un'apparente perdita di rendimento economico per evitare una opprimente e inesorabile distacco e per aumentare gli spazi destinati ai servizi sociali e culturali, sia nella progettazione urbanistica, sia nei bilanci dello Stato e dei privati. Gli architetti, gli ingegneri, gli amministratori devono perciò persuadersi a essere al servizio della civiltà che si riconosce all'adeguatezza dei suoi spazi. Adeguatezza dei suoi spazi vuol dire spazio pubblico che viene generato e costruito per il pubblico mentre do il permesso ai privati di costruire. E qui pongo un tema, visto che abbiamo, l'ho già accennato alle nostre due parlamentari presenti, pongo un tema che secondo me andrebbe posto in Parlamento. Allora, noi qui abbiamo, come ho detto, il tema di sviluppo degli scali ferroviari, il tema degli accordi di programma nel quale la città si sviluppa con un accordo nel chiuso di una giunta, di un sindaco e di un privato. Allora, c'è un ricorso al TAR, ci sono due ricorsi al TAR che hanno lo stesso tema, uno è gli scali ferroviari di Milano e uno è un piccolo comune di Villa Santa. In entrambi, sia il piccolo comune di Villa Santa, sia il grande comune di Milano, dicono che gli accordi di programma, cioè questi accordi pubblico-privato, cioè sindaco e giunta e privato, superano gli standard minimi previsti dal DM 14468, cioè ogni tot metri cubi che costruisco devo garantire tot metri quadri e tot e cosa di spazio pubblico. Bene, il comune di Milano, al TAR si dipende, contro chi gli ha fatto ricorso contro il suo accordo di programma, il cui esito ancora non sappiamo, dicendo che gli accordi di programma superano le leggi nazionali. Questo è quello che dice il comune di Milano. Ora, noi sappiamo, per esempio, che il comune di Villa Santa, che si è posto di fronte al tema esattamente come il comune di Milano, il TAR ha mandato la cosa al Consiglio di Stato e questa è un'ottima notizia. Speriamo che avvenga la stessa cosa anche per il comune di Milano, perché questo significa mettere in discussione, in modo pesante, il modo in cui è stato gestito quell'accordo. Quindi io magari avremo modo di sentirci con più calma di venire, però secondo me questo è un tema importante, perché gli scali ferroviari non sono solo a Milano, ma sono in tutte le grandi città. e questo modo di fare urbanistica tipico della destra e molto ben preso dal centro-sinistra è una cosa che si è diffusa un po' su tutto il territorio. Grazie. Mi verrebbe da fare la battuta che anche Catella è distribuito in tante città. Bravissima, esatto. Lucca, con la tabaccheria, insomma queste pratiche le vediamo in molte città purtroppo. Tempi limitati, di cui io mi devo fare portatrice nel tagliare gli interventi, hanno impedito a Gabriele di toccare il punto, la massima espressione in questo periodo, che è lo stadio Meazza, su cui... su cui... su cui... su cui... è che appunto... è che Milano ne offre troppi, diciamo, di mostruosità in atto, no? Sul... per cui ti concedo due minuti per dire due cose. Due minuti, scusatemi, perché veramente non ci sarebbe solo lo stadio Meazza da dire, ci sarebbe tante altre cose che però verranno declinate da che mi segue sulla Palazzina Liberty e su Crescenzago, a dimostrazione che il bene comune non è soltanto appunto un tema di carattere generale, ma viene declinato a livello locale. San Siro. Allora, è dal 2000... Allora, la prima delibera di giunta risale a ottobre 2019. Noi da ottobre 2019, come anche Milano in Comune, che siamo addosso a questa delibera di San Siro. Si può fare... La riqualificazione dello stadio di San Siro viene perché c'è la legge sugli stadi. C'è un tema di fondo che qua a Milano viene calpestato, la legge regionale, la legge nazionale sugli stadi a Milano viene calpestata. Perché? Cosa dice? Dice una cosa importante. Lo stadio può essere demolito e rifatto nuovo solo se si dimostra che quello esistente non si può ristrutturare. A Milano questo passaggio della legge sugli stadi viene calpestato dal sindaco. Lo dico proprio qua ai microfoni a chi ci ascolta e a chi ci vede. Viene calpestato dal sindaco perché la dimostrazione che lo stadio di San Siro può essere riqualificato secondo le moderne esigenze anche espresse dalle due squadre non è minimamente stata in due anni presa in considerazione dall'istituzione locale. salvo qualche audizione in commissione consigliare che lascia il tempo che trova. Quindi è una battaglia che noi seguiamo noi abbiamo l'ultima delibera del 4 novembre del 2021 noi il 4 il 5 novembre abbiamo iniziato un percorso referendario. Invito tutti voi a seguire questa iniziativa abbiamo raccolto le nostre mille firme sono state validate dovremo raccogliere più di mille dovremo raccogliere altre circa 14.000 appena ci daranno l'ok in quattro mesi è una battaglia importantissima a tutela dei nostri interessi a tutela di un bene comune dei milanesi per dare un forte segnale a questa città e al modo in cui viene governata che c'è bisogno di un cambio di rotta radicale cambio di rotta che noi aspichiamo avvenga anche attraverso altri strumenti che altri insieme a noi hanno avviato come ricorsi al TAR e quindi sarà il bisogno e il contributo di tutti quando sarà il momento vi chiederemo di aiutarci a proseguire a raccogliere le firme grazie grazie Gabriele a questo proposito se non l'avete fatto vi invito a lasciare la mail all'ingresso perché come sapete è stata attivata la possibilità di raccogliere le firme in maniera digitale quindi nel momento in cui come auspichiamo la commissione che ha al vaglio i nostri due quesiti propositivo e abrogativo della delibera di cui parlava Gabriele vi manderemo il link per poter firmare e permetterci quindi di usufruire di uno strumento di partecipazione che è l'altro grande elemento che viene che è stato di cui siamo stati privati non che è stato privatizzato quindi queste decisioni prese nelle segrete stanze che però poi impattano sulla vita di tutte e tutti noi adesso nel passare alla parola a Luca Massari e poi a seguire a Marco Cicognini così anche io risparmio tempo andiamo a prendere due esempi nel territorio sul nostro territorio dell'area milanese di questi processi perché Gabriele ha fatto un intervento parlando di macro aree ma poi nella ricaduta di scelte che sono scelte politiche precise vediamo come a seconda del momento vanno a toccare edifici spazi o luoghi che dovrebbero continuare ad essere pubblici dei beni pubblici e dei beni comuni che invece nascondendosi dietro una presunta efficienza o dietro la meraviglia degli accordi pubblico privato che poi diventano regalia al privato vengono tolti invece alla cittadinanza in particolare passo la parola a Luca Massari del comitato per la difesa della palazzina Liberty per i milanesi e per le non milanesi la palazzina Liberty è un simbolo per questa città rappresenta un pezzo di storia di questa città all'interno del parco largo marinai d'Italia ed è appunto un altro di questi beni che si vuole mettere a bando e regalare prego Luca prendo posto iniziamo allora io prendendo spunto da quello dalle parole di Anna io innanzitutto inizio l'intervento ringraziando le due parlamentari che sono qui presenti assieme a noi Iana e Simona che veramente stanno facendo un lavoro enorme e lodevole per l'unità della sinistra di alternativa io vi ringrazio e purtroppo ringrazio voi ringrazio anche Ciccio che anche lui viene da lontano io purtroppo non posso far altro che proseguire quella quella carrellata di 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 mostruosità di cui abbiamo abbiamo di cui abbiamo parlato prima e di cui hanno con interventi eruditi molto molto profondi condivisibili al cento per cento hanno parlato ha parlato chi mi ha preceduto la galleria dei mostri continua e purtroppo dopo la privatizzazione dell'acqua dopo San Siro dopo gli scali ferroviari qui andiamo andiamo a parlare di di un altro furto che non riguarda in sé solamente la l'edificio storico della palazzina Liberty alla quale ovviamente noi che abbiamo una cultura e una storia di sinistra siamo siamo molto affezionati riguarda il furto della libera fruizione della cultura e qui secondo me è il tema da che deve essere sicuramente approfondito anche la l'acqua è bene comune certo chi lo può negare anche la cultura è un bene comune è un bene comune che rischia ahimè l'estinzione rischia l'estinzione nella sua valenza di diritto alla alla crescita individuale alla crescita collettiva e nella sua valenza di fruizione libera del sapere è stata prima Anna ha fatto cenno alla alla petizione la petizione è nata su impulso di alcuni di alcune cittadine alcuni cittadini che indignati reagendo alla alla notizia della della pubblicazione delle delle linee guida del bando che di fatto apre la cessione a terzi come la chiama il comune di Milano il comune di Milano non parla di privatizzazione parla di cessione a terzi che è un po' un eufemismo per dire la stessa cosa perché giochiamo giochiamo al giochino della settimana enigmistica trova le differenze le differenze di fatto non ce ne sono ripeto un gruppo di cittadine e di cittadini indignati e indignate di fronte a questo a questo nuovo scempio ha deciso di di scrivere un il testo di una petizione un testo di una petizione che ha raggiunto una certa lunghezza perché comunque ci siamo anche sbizzarriti nel redarlo nello scriverlo abbiamo ovviamente posto in evidenza il ruolo che ha avuto la palazzina Liberty da quando fu costruita fino all'epoca in cui fu occupata da Dario Fo occupata è bene è bene ricordarlo per perché a lei venisse data ancora vita il comune prima che dell'arrivo di Dario Fo l'aveva lasciata nell'abbandono più totale benvenuto Dario Fo benvenuta Franca Rame che con il loro collettivo artistico culturale hanno ridato vita ad uno ad uno spazio che era destinato ad essere il magazzino del comune di Milano quindi anche qui si inserisce il tema che spesso noi abbiamo trattato cioè quello della riutilizzazione e rifruizione degli spazi in disuso degli spazi abbandonati a maggior ragione se questi spazi sono di patrimonio pubblico perché la palazzina Liberty è di fatto un edificio pubblico quindi se volete andarvi a leggere la petizione la prima parte è quella che riguarda la storia perché comunque a noi piacciono le battaglie perché amiamo le cose e le persone per le quali combattiamo e la palazzina Liberty penso che meriti dal punto di vista storico anche artistico perché no tutto il nostro innanzitutto rispetto e il nostro anche amore e ovviamente la nostra incazzatura davanti al suo furto la parte invece più politica più pregnante più se vogliamo anche più importante scevra dagli pseudo accademismi che possono sembrare parte caratteristica della prima parte è quella che noi abbiamo intitolato le nostre criticità le nostre criticità a questo processo chiamiamolo come giustamente è alla privatizzazione della palazzina Liberty allora innanzitutto è bene dire che tutto quello che è stato scritto all'interno della petizione non è frutto di della fantasia di 4-5 ultra sinistri ultra comunisti eccetera eccetera ma è la reazione che abbiamo avuto leggendo leggendo quello che è stato scritto dal comune di Milano sulle linee guida per il bando pensate che il il primo punto che ci ha fatto ci ha fatto raddrizzare le orecchie è stato innanzitutto innanzitutto la riduzione delle giornate di fruizione della palazzina Liberty per il territorio per chi non è di Milano la palazzina Liberty è stata utilizzata da associazioni del territorio è stata più volte utilizzata dall'AMPI per le manifestazioni per le iniziative dedicate al 25 aprile bene palazzina Liberty di proprietà del comune di Milano aperta 365 giorni all'anno più o meno per il pubblico per iniziative rivolte al pubblico con la cessione ai privati con la cessione a terzi con la privatizzazione potrà essere utilizzata per iniziative pubbliche 15 giorni si passa da 365 giorni a 15 non è una barzelletta è quello che è stato scritto dal maestro Sala nelle linee guida altro punto essendo la palazzina Liberty un luogo comunale gli affitti che devono pagare le associazioni sono ridotti come giusto che sia nel momento in cui interverranno i privati la nostra domanda legittima è questi affitti rimarranno bassi rimarranno alla portata delle associazioni alla portata dell'ampia alla portata delle associazioni di teatro alla portata delle bande che provano all'interno della palazzina Liberty non ci sono all'interno delle linee guida elementi che ci facciano sperare nel migliore dell'ipotesi un minuto inoltre vado molto 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 velocemente perché Anna è severissima non si fa non si fa alcun accenno a un possibile controllo di quello che verrà rappresentato verrà attuato all'interno della palazzina Liberty che tra l'altro vedi linee guida può essere utilizzata anche per sfilate di moda alla faccia di Dario Fo che ci rappresentava mistero Wufo e un bel po' di altri capolavori sfilate di moda stage e chi più ne ha più ne metta non ci sarà controllo quindi sull'offerta che il privato farà e questo può sembrare di minore importanza ma effettivamente è importante perché pochi anni fa su impulso su richiesta del del presidente di municipio 4 della della Lega della palazzina Liberty venne si cercò di organizzare per la mirabolante giornata del ricordo un'iniziativa che vedeva niente poco di meno che il cantante nazi rock Skoll mobilitandoci come cittadini come antifascisti siamo riusciti facendo pressione sul comune a bloccare il concerto di Skoll mi domando se mi domando quali mezzi istituzionali avremmo per bloccare un concerto concerti di cantanti di artisti se così li vogliamo chiamare nazifascisti una volta che la palazzina Liberty sarà privata sarà privatizzata l'ultimo altro punto e qui mi avvio a concludere io riguarda il lavoro e le condizioni di lavoro di chi andrà ad operare all'interno della palazzina già Iana e Simona prima sono stati interpellati dal mio amico collega e compagno Roberto D'Ambrosio che è il tecnico luci della scala io sono suo collega faccio il fonico insegno a suonare la chitarra quindi vengo da un'esperienza che ho condiviso con Roberto dall'esperienza dell'occupazione del piccolo teatro del piccolo teatro che avevamo condotto come coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo già Roberto ha accennato qualcosa a Iana e a Simona io aggiungo una sollecitazione tra i punti che avevamo definito all'interno della nostra dichiarazione di ristrutturazione del lavoro dello spettacolo c'era anche quello di oltrepassare la dinamica del lavoro in appalto e subappalto perché quello è quello che ci caratterizza a maggior ragione in ambiti privati già lo lo sperimentiamo quando andiamo a lavorare per il pubblico per il privato la cosa raggiunge livelli insopportabili abbiamo parlato nella nella nostra nella nostra proposta di 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 responsabilità di responsabilità diretta responsabilità diretta ovviamente da parte del del datore di lavoro senza ovviamente l'intermediazione degli appalti e dei subappalti tutto questo nella gestione privata non ci può essere non ci può essere perché la gestione privata è una gestione che non guarda alla sicurezza di chi lavora non guarda all'offerta culturale nel nostro campo guarda solo al profitto seguendo le linee del loro ministro della cultura Franceschini il quale ha messo in un unico in un unico e vado a chiudere veramente in un unico padellone turismo e cultura quasi come se la cultura dovesse essere solamente una cosa legata al turismo e un mezzo per fare profitto come già per altri per altri esempi era stato detto cioè il profitto davanti a tutto davanti a tutte e davanti a tutti ricordo noi abbiamo in programma un'iniziativa per il 15 di maggio davanti alla palazzina non vi anticipo gli ospiti sarà comunque una giornata di rivendicazione politica contro la privatizzazione per la sicurezza di chi di chi lavora per la sicurezza dei lavoratori dello spettacolo all'entrata c'è qualora non l'aveste ancora fatto il modulo per firmare e vi terremo comunque aggiornati sul su quello che succederà il 15 maggio comunque mettetevi un appunto 15 maggio tutte e tutti davanti alla palazzina Liberty a rivendicare che la cultura è un diritto che non deve essere venduta ai privati e che la cultura è un bene garantito anche dalla Costituzione sono cattiva ma di poco effetto mi pare allora nel passare alla parola Marco due solo brevissime considerazioni la prima questa difficoltà che dobbiamo avere compagni e compagni che si mettono a spulciare i testi a leggere i bandi a scoprire quello che non ci viene detto e che poi invece ci ritroviamo quindi un lavoro certosino che non fa certo onore alle istituzioni che dovrebbero rappresentarci i ricorsi al TAR chi legge i bandi chi va a vedere cioè non è più una rappresentanza ma è un controllo cittadino che dobbiamo fare quasi quotidianamente questa è un'assurdità e appunto nel passare alla parola Marco Cicconini che ci parlerà di un altro caso emblematico per l'area di Milano mi segnalava giustamente Gabriele che a pochi metri dalla palazzina Liberty a Milano è tornato in auge il progetto della biblioteca europea la Beich con un costo previsto di 78 milioni di euro per costruirla più circa 8 milioni di euro per chi vincerà il bando del progetto che io mi immagino sarà sicuramente un bando trasparente senza nessun privilegio per un totale di 86 milioni di euro che vengono dai fondi del PNRR per le biblioteche allora di fronte a questo non si trovano 1,2 milioni di euro che servirebbero per ristrutturare la palazzina Liberty e tenerla come bene pubblico e disposizione di tutti ovviamente è una domanda retorica passo la parola a Marco Cicconini già candidato presidente del municipio 2 che lo dico soprattutto per le nostre ospiti parlamentari che non sono di Milano è un municipio molto vasto molto ricco di multiculturalità di associazionismo di vitalità di cittadinanza attiva e anche molto troppo spesso dimenticato proprio dalle istituzioni grazie ringrazio i relatori e a questo punto sono parecchio sollecitato dai vostri interventi e spero di mantenere diciamo così una certa lucidità io vengo dal mondo dell'associazionismo e ho incontrato Gabriele e Anna non dico per caso ma proprio su questo piano in quartiere e così è nata un'intuizione no? allora io partirò diciamo così il mio nucleo di partenza è la casa Crescenzago poi mi allargherò leggermente e cercherò di uscire dal necrologio per fare una critica e per dare un paio di spunti uno culturale e uno politico che secondo me diciamo sono due prospettive piuttosto di strada rispetto che diciamo di analisi dettagliata da parte vostra però secondo me sono molto sono molto concrete e possono suscitare diciamo così un certo movimento allora questo edificio è più o meno su tre corpi in una zona molto particolare perché è la riviera bisogna distaccare così va bene è la riviera di Crescenzago ci sono delle ville storiche che sono in parte delle antiche delle antiche fabbriche che si fabbriche e anche case dove la gente ricca di Milano andava a passare l'estate quindi ci sono degli edifici molto belli ed è il luogo dove la Martesana entra a Milano poi fa da cerniera su un nuovo quartiere di Adriano che a parer mio è un quartiere veramente che si sviluppa praticamente sul centro commerciale dell'Esse Lunga sostanzialmente dove sono stati sacrificati gli ultimi ettari agricoli vasti diciamo che erano di Milano per cui questo edificio qui era il municipio del comune di Crescenzago che Benito Mussolini aggregò a Milano una parentesi Benito Mussolini e Bonaparte fecero la stessa cosa mentre gli austriaci lo mantennero come 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 distaccato per diciamo favorire i corpi santi che era tutta una serie di comuni che circondava Milano e alimentava Milano i corpi santi venivano prodotti i generi alimentari che venivano consumati nella città questo è un po' ed è per questo storicamente molto importante lì a 50 metri c'è una bellissima chiesa tra l'altro no del del 1300 quindi dunque l'edificio è in gestione da da tantissimo tempo dall'Ampi Crescenzago dalla banda musicale di Crescenzago e dalla Lega Ambiente da Lega Ambiente quindi dunque già negli anni precedenti dunque il subisce diciamo così un paio di schiaffi rispetto alla sua importanza mentre diciamo così un altro edificio molto importante viene regalato alla Curia e diventa la casa della carità in onore del cardinale Martini un edificio molto grande la casa Crescenzago finisce nei fondi di Letizia Moratti che istituisce nel primo fondo esattamente nel 2007 poi Letizia Moratti istituirà anche il secondo fondo nel 2009 quindi questa parte qua finisce e Letizia Moratti giustificherà del resto come sala come sta facendo adesso che è un'occasione per rimpinguare le casse del comune quindi questo nella giunta di destra quando cambiano le cose politicamente con 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 il comitato diciamo i comitati di cittadini riescono a raccogliere molte firme e riescono a fare deliberare uno alla giunta del comune di Milano uno stralcio no uno stralcio che poi non viene effettuato cioè non viene il bene non viene stracciato dal fondo ma nel 2021 alla fine del 2021 sala e tasca lo fanno passare all'asta quindi viene viene praticamente giudicato in questo momento qui ancora non si sa chi è il proprietario comunque nel frattempo diciamo così nel frattempo i tre gestori no come vi dicevo prima si allargano per resistere ad altre nuove associazioni nel territorio no questo è un po' è un po' la storia ora non si sa cosa succederà ecco io vorrei vorrei fare diciamo così un altro paio di esempi perché è perché è importante il fondo Paribas primo e secondo alienano anche delle coloni per bambini no e queste qui il secondo aliena no il primo aliena ad esempio ma è un esempio la colonia di Cesenatico questa viene venduta ma prima viene ristrutturata dal comune no viene ristrutturata con le spese del comune sì 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 e rimane e rimane fino al 2014 ristrutturata eh 2007 ristrutturata entro il 2010 quattro anni senza senza essere utilizzata ora io le notizie le so fino al 2014 non so che fine abbia fatto la colonia di Malcesine questo ci tengo a dire perché sono legato emotivamente perché le mie bambine andavano a Malcesine ma non è un fatto adesso mi ricollego cioè non è che voglio è ancora peggio cioè il procedimento è sempre lo stesso no questo però è del secondo fondo viene praticamente ristrutturata a spese del comune no e data al comune di Malcesine il comune di Malcesine cosa fa? fa il progetto è pazzesco questo fa il progetto e dice vabbè la buttiamo giù no e facciamo un parcheggio per la funidia del baldo no è pazzesco al che vabbè non ce la fanno perché il comune di Malcesine vengono sbattuti fuori tutti e comunque anche lì l'ultima notizia è fino al 2014 ora non so cosa sia successo però cioè sono due esempi folli ah oltretutto la la colonna di Malcesine è stata è stata ereditata dal comune di Milano è stata ceduta dal comune di Milano quindi non avrebbero potuto fare quella cosa perché la cessione era scopo per i bambini di Milano questa famiglia aveva dato il bene per questo utilizzo ecco per esempio allora tornando a prima dunque per cui la vendita del comune della 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 di Malcesine ad un fondo immobiliare più altri è un affare di Patrizio Mercadante ex direttore del settore educazione che è finito in carcere dunque qua siamo nel 2009 nel 2009 viene chiamato da Letizia Moratti sala che passa all'amministrazione pubblica questi sono passaggi molto importanti ma perché dico questo allora io mi ricordo parto da crescenzaco però vorrei allarmi un attimino io mi ricordo che quando le mie bimbe andavano a Malcesine erano veramente contente e anche io avevo una sensazione di ricchezza ora bisogna sostituire a quelle parole che secondo me sono un po' infami come la no perché tu fai una scelta etica oppure sei buono ecco queste parole mi fanno venire l'urticare mi fanno venire un'incazzatura che non vi dico perché questo ma perché la questione è che i beni pubblici sono veramente una ricchezza ora non sono una questione di etica o una questione di bontà sono una questione di ricchezza cioè io ci tengo alla ricchezza io penso che quello che possa tenerci insieme e renderci orgogliosi sia proprio la ricchezza concludo un attimino allora arrivo allora che cosa bisogna due stimoli insomma culturali e politici parto dalla casa ritorno un po' perché questo qui è il mergometto un po' come 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 in questo periodo qua un'altra cosa pazzesca che è un attacco al diciamo al pubblico è sulla casa cioè che cosa prevale adesso vendi la tua casa fai valutare la tua casa disfatti della tua casa e trovani un'altra ecco questo è un piano anche lì diciamo così di attacco diciamo così alla dimensione dell'abitare che è estremamente pubblico anche quando è privato allora qui bisogna opporsi bisogna no cioè vivi la tua casa abita la tua casa perché la casa è principalmente di chi l'abita di come l'abita no la casa di chi l'abita ma è una questione culturale questione politica come incidere no allora e qui ci deve essere appunto qui stiamo perdendo tutto cioè bisogna bisogna capire che noi partiamo da una questione di perdita cioè siamo sconfitti dobbiamo renderci conto siamo sconfitti ci alziamo dal terreno no allora come attaccare come proporre allora le aste ma le aste lì ci deve essere una mano pubblica non possono essere la ruota della fortuna oppure la roulette russa voglio dire le aste sono una possibilità di ridistribuzione di ridistribuzione della ricchezza cioè una persona che ci abita dentro ci sono queste situazioni qua no il proprietario che non so butta via i soldi dalla finestra ecco allora prima di tutto bisogna dire tu ci sei dentro in affitto beh hai una prelazione quindi fai un'offerta e ti prendi la casa oppure non esiste che le immobiliari e che le banche che sono state la causa della speculazione quindi hanno ho finito hanno diciamo così un conflitto di interesse abbiano la prelazione non esiste cioè devono essere date a chi non ha la casa prima casa beh va bene è tua cioè questo qui secondo me potrebbe essere già un attacco e una consapevolezza diciamo è una proposta che viene dalla strada questa ecco grazie grazie mille Marco come vedete fotografie puntuali di azioni che si ripetono reiterano sempre le stesse azioni noi questa sera abbiamo voluto avere qua come ospite anche il compagno consigliere comunale Cicciaoletta che fa un lavoro strepitoso dimostrando che a volte non è la quantità che fa la vera opposizione ma è la qualità con Ciccia abbiamo diviso molte battaglie anche con la rete delle città in comune cercando di andare a scalfire proprio questa narrazione di cui abbiamo sentito i vari interventi e Ciccio è protagonista come dicevo prima così come Luca si è eletto tutto il bando della palazzina Liberty Ciccio ha un vizio gli piace andare a spulciare le pubblicazioni della gazzetta ufficiale e ha scoperto così casualmente che nel suo territorio non solo stavano svendendo un pezzo di territorio pubblico ma che qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire una base militare all'interno di un parco così in un periodo in cui in fondo una base militare in più o in meno che differenza fa e quindi è diventato da un caso territoriale oggi è un caso nazionale sto parlando della base di Coltano quindi noi abbiamo voluto invitare Ciccio e averlo qua stasera e tenerlo anche come ultimo intervento perché proprio la summa la sintesi del peggio del peggio rispetto a quello di cui abbiamo parlato stasera anche rispetto alla transizione ecologica rispetto dell'ambiente quindi l'apoteosi della privazione di bene comune quindi la parola Ciccio Auletta consigliere comunale di Pisa io mi ringrazio veramente per per questo invito e vi porto il saluto di tutta una città in comune di Pisa perché in tutti questi anni insieme con Milani in comune abbiamo lavorato come diceva Anna attraverso la rete abbiamo sostenuto convintamente la candidatura di Gabriele io penso che la sfida al di là di quello che è il risultato elettorale in qualche modo il momento in cui questa scommessa prosegue con iniziative di questo tipo è una scommessa che deve ambire la prossima volta a ripresentarsi con l'obiettivo di rientrare in consiglio comunale e portare queste battaglie all'interno perché io parto dalla nostra esperienza credo che comunque non c'è la possibilità di stare nelle istituzioni e far funzionare dei consiglieri comunali se non esiste un movimento fuori voi avete un elemento importante già c'è qualcosa che si muove nella società e questo milanese e quegli interventi che ci sono stati lo dimostrano ampiamente io ho due brevi cenni sulle cose che sono state dette e poi vado al cuore un po' della battaglia nazionale che stiamo facendo in questi giorni tutte le testimonianze gli interventi che ci sono stati riecheggiano esattamente quello che avviene anche nella nostra città e in tutte le altre città d'Italia come la pandemia viene utilizzata da centrodestra e centrosinistra per accelerare tutti i processi di privatizzazione questo è un elemento che noi dobbiamo tenere presente in cui la distruzione della qualità del servizio pubblico della qualità del lavoro perché non c'è qualità del servizio se non c'è qualità del lavoro e questo ha delle ripercussioni pesantissime su tutte le tariffe in una dimensione di classe assolutamente evidente dicevate della questione della casa nella nostra città non ci sono si svende il patrimonio pubblico non si recuperano gli alloggi popolari è l'unica soluzione che viene offerta a chi fa sfratti nella nostra città Pisa è una piccola città da 90.000 abitanti abbiamo 140 sfratti esecutivi con forza pubblica l'unica alternativa è l'albergazione buttare soldi pubblici con famiglie vengono tenute in una stanza di albergo anche per 30 mesi questa è la situazione che noi abbiamo allora come invertire la tendenza è la grande questione delle risorse pubbliche perché in questo momento i comuni le risorse pubbliche le avrebbero allora che cos'è avvenuto nel nostro territorio è avvenuto quello che diceva Anna cioè si mette in evidenza la grande questione democratica noi il 25 marzo scopriamo casualmente sulla gazzetta ufficiale che consultiamo più o meno per capire cosa avviene nel nostro territorio un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dà il via libera a un progetto di realizzazione di una nuova megabase militare in un'area agricola dentro il più importante parco della Toscana il parco di San Rossore per realizzare una nuova infrastruttura militare come opera strategica di carattere nazionale cosa significa un'opera che deroga da tutti i procedimenti normali e amministrativi e un'opera che viene inserita attraverso le procedure del PNRR di questo nessuno sapeva assolutamente niente noi tiriamo fuori un comunicato denunciando questo tipo di operazione e la militarizzazione perché voi dovete considerare che questo territorio sarebbero 70 ettari di parco che verrebbero cementificati per 440.000 metri cubi aree che oggi sono tutte a destinazione agricola ci sono allevatori coltivatori si produce grano cereali si alleva bestiame una eccellenza dal punto di vista della produzione biologica del nostro territorio si trova a due chilometri dall'aeroporto di Pisa che oggi è il trampolino di lancio del trasferimento delle armi verso l'Ucraina e qui non possiamo solo che ringraziare il sindacato USB e i lavoratori che si sono opposti e hanno disobbedito al carico di armi dalla parte civile dell'aeroporto e a 5 chilometri dalla base americana di Camderby il più grande arsenale americano fuori dagli Stati Uniti dico che purtroppo non è una cosa nuova sul nostro territorio perché nel 2017 sempre il nostro gruppo consigliare scoprì un altro mega progetto di potenziamento attualmente in corso di Camderby stiamo parlando di 45 milioni di dollari per realizzare una ferrovia interna alla base americana di Camderby che porti direttamente al porto di Livorno in maniera tale a non utilizzare le infrastrutture civili per il trasporto di armi questa infrastruttura veniva realizzata all'interno del parco abbattimento di mille alberi 45 milioni di dollari il parco di apparere negativo ma il governo Gentiloni allora nel 2017 definisce quest'opera come opera strategica nazionale e i lavori di devastazione del parco sono in corso quindi il nostro territorio conosce bene cos'è la militarizzazione del territorio e quindi questa nuova base si colloca fra l'aeroporto militare e Camderby denunciamo pubblicamente e il primo a prendere la parola è il presidente del parco che dice io non sapevo nulla nessuno di noi ha creduto a questa cosa grazie a un accesso agli atti abbiamo scoperto che non era vero che il parco non sapeva il parco sapeva e tutti sapevano c'è chi governa a livello locale regionale e nazionale quindi in maniera trasversale partito democratico lega movimento 5 stelle forza italia conoscono questo progetto dal 9 aprile del 2021 date in cui la regione toscana dà al parco di san rossore il progetto il parco fa un parere negativo ma se lo tiene nascosto nel cassetto per un anno non lo trasmette mai alla regione toscana per dare il proprio parere negativo riusciamo come dire questa volta a differenza del 2017 perché nel 2017 noi denunciamo questo scandalo del potenziamento i camderby non ne riuscimmo a fare una questione di carattere nazionale questa volta invece siamo riusciti a farne un caso nazionale e oggi la battaglia si gioca sulla realizzazione o meno di questo intervento da 190 milioni di euro per costruire villette a schiera piscine un eliporto per costruire e trasformare Pisa è la più grande piattaforma logistica verso la guerra questa vicenda mette insieme militarizzazione cementificazione del territorio democrazia trasparenza per noi è una grande battaglia si utilizza i soldi e il PNRR per esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere anziché potenziare i parchi fate conto il parco di San Rossore ha appena un bilancio da 4 milioni di euro vengono utilizzati per devastare un parco questo è l'indirizzo scelto dal ministro Guirini ministro del partito democratico su sollecitazione del ministero dell'infrastruttura e contanto di firma del presidente Draghi risulta clamoroso come il presidente della regione toscana Gianni continua a chiedere per favore mi fate vedere il progetto mi fate capire di cosa si tratta quando è lui per primo che lo tiene nel cassetto nascosto da un anno la mancanza di trasparenza l'arroganza e il disprezzo nei confronti dei cittadini di questa vicenda è clamoroso riusciamo all'interno di questo percorso a costruire una dei appuntamenti pubblici che hanno dato fatto sì che per esempio già stasera ci sia un nuovo appuntamento di quello che abbiamo definito movimento no base né a Coltano né altrove mi voglio soffermare su questo né altrove perché è importante che noi non solo denunciamo con forza chi oggi vuole devastare un parco derogando da tutto perché su questo è chiaro che non è possibile cementificare neanche un centimetro quadrato di un parco e in violazione a tutte le normative vigenti ed esistenti no Gabriele non credo che sia in alcun modo fattibile ma è altrettanto importante fare una fortissima battaglia per cui quei 190 milioni di euro che vengono dal PNRR o dal fondo di coesione su questo il ministero ancora dice bugie perché noi purtroppo dopo oltre 50 giorni non abbiamo mai avuto un accesso agli atti una risposta al quadro economico a quei documenti di cui vi parlavo è fondamentale che neanche un centesimo venga utilizzato per militarizzare nuovamente il territorio impropriamente quelle risorse dovrebbero essere usate esattamente per le cose di cui abbiamo parlato prima miglioramento della qualità dei servizi per i lavoratori per il sistema degli appalti dei subappalti sulle tariffe sulla casa sulla sanità quindi la nostra battaglia è perché non venga neanche stanziato un euro la battaglia che noi diciamo è che quel decreto deve essere immediatamente ritirato che quelle risorse devono essere stanziate per quelle che sono le priorità sociali che nessuna militarizzazione del territorio è più accettabile ma soprattutto ed è questo un altro elemento fondamentale che il territorio la terra l'agricoltura sono dei presupposti fondamentali di un'altra idea di modello di sviluppo economico che dobbiamo rilanciare alle guerre noi dobbiamo alla militarizzazione dobbiamo contrapporre all'economia di guerra perché questa fa parte dell'economia di guerra sono quelle spese aggiuntive che si mettono in più a quel 2% di aumento della spesa militare del PIL e l'altra cosa che noi abbiamo chiesto e che stiamo provando a capire grazie a le parlamentari di manifesto è se il caso Pisano di Coltano è un caso isolato o se ci sono altri progetti nascosti nelle pieghe dei provvedimenti governativi che stanno dentro questo meccanismo perché noi temiamo che questo sia semplicemente un cavallo di troia che viene utilizzato per altre operazioni di questo genere perché è evidente nel momento in cui viene definita come opera strategica nazionale la possibilità di intervento delle stesse istituzioni è completamente bypassata cosa fanno allora le istituzioni che in questo anno hanno tenuto nascosto il progetto o meglio i cui partiti l'hanno approvato e portato avanti in questo anno perché poi il doppio gioco è abbastanza facile ora fanno il mercato delle vacche stanno a trattare per le compensazioni siamo disponibili a che venga realizzata purché ci date risorse per riqualificare la nostra città oppure siamo disponibili anziché 70 ettari lo realizzate su 50 e troviamo delle compensazioni e soldi bene noi crediamo e questo è il punto di fondo che rilanciamo come movimento è che su questo non ci sia nessuna compensazione possibile cioè che il territorio è un bene comune che non si può scambiare con niente in alcun modo questo è un punto imprescindibile per il nostro movimento e per la battaglia che facciamo chiudo perché forse sono stato anche troppo lungo per noi ed è questo il senso anche perché oggi siamo venuti qui a portare diciamo questo appello che stiamo in queste ore elaborando nell'assemblea Pisa il 2 giugno lanceremo con un movimento non base una grande manifestazione nazionale a Pisa e qui invitiamo e chiediamo l'appoggio il sostegno l'adesione di Milano in comune e di tutte quante le altre realtà il 15 di maggio saremo all'assemblea nazionale promossa GKN domani saremo a Mondeggi lunedì saremo all'assemblea nazionale della società della cura ci vorremmo provare a unire tutte le realtà ai movimenti perché non stiamo parlando solo di una militarizzazione del territorio ma stiamo parlando di una battaglia rispetto a quello che è il modello di sviluppo di economia e di democrazia del nostro paese per cui l'invito forte è lavorare tutti quanti insieme perché il 2 giugno possa essere sì una festa ma di un'altra repubblica opposta rispetto a quella guerra fondaia e devastatrice che vuole portare avanti questo governo io invito Simona e Iana a unirsi a noi a cui dovrò dare pochissimo tempo perché siamo in chiusura loro sono stanchissime le abbiamo hanno una valigia di cose che devono portare però vi anticipo già che Milano in Comune si impegna pubblicamente a fare il bus per andare a Coltano il 2 giugno lo dico non ho condiviso con nessuno lo decido ho deciso io grazie Anna grazie a tutti si è detto tanto e non ripeto quello che è già stato detto quello che io ho notato cercherò di essere breve perché siamo tutti stanchi quello che io ho notato in questi due giorni a Milano ma girando in generale l'Italia è un po' lo stesso schema che si ripete ovunque la gentrificazione la privatizzazione è un modello economico qualunque amministrazione ci sia destra o sinistra chiamiamola sinistra è un modello che si ripete sempre più precarizzazione sempre più privatizzazione l'arretramento dell'arretramento del privato e fin anco arrivare anche addirittura all'acqua che viene privatizzata la sanità privatizzata quindi è diventato un lusso avere un bene di prima necessità quando giustamente Gabriele diceva lo stesso articolo 42 disciplina si la proprietà privata ma la proprietà privata deve avere anche fini sociali quindi la proprietà privata ok nessuno dice di pubblicizzare anche la proprietà privata ma quella proprietà privata non può andare a ledere l'interesse della collettività o l'interesse di un altro soggetto deve comunque avere appunto una funzione sociale di sviluppo anche della giustamente diceva Gabriele se io costruisco la mia casetta la mia casetta non deve andare a nuocere o a ledere il paesaggio o la vita di un altro soggetto quindi quello che volevo dire appunto è quello che ho notato questo modello che è un modello che purtroppo stiamo seguendo il paese segue da 30 anni a questa parte purtroppo non ha portato ricchezza ma ha portato sempre più miseria e precarizzazione del lavoro e se 40 anni fa un operaio poteva comprare una casa per la sua famiglia oggi due persone stipendiate non riescono a comprare una casa quindi questo modello di privatizzazione non ha portato ricchezza e sviluppo nel nostro paese non parliamo poi dell'ambiente non parliamo dei disastri ecologici che questo ha portato mi fa piacere che abbiamo incontrato tantissimi comitati questo due giorni a Milano tantissime sono le tematiche che giustamente portate all'attenzione di chi vi governa speriamo di poter portare questa voce anche in Parlamento io quello che chiedo è di fare rete c'è bisogno di fare rete tra tutte queste realtà di convergere convergere verso un'unica grande voce perché quando oggi ci dicono le finte sinistre di unirsi per combattere le destre se no il rischio è le destre io vorrei ricordare che con le destre ci governano però quindi alla fine ci stanno quindi è un'ipocrisia la vera sinistra o comunque quella vera battaglia da parte del popolo non sta con quella sinistra che poi va a braccetto con la destra grazie mille Anna buonasera a tutte e a tutti ringrazio anche per questo confronto appunto su quello che è un tema così importante che appunto sono i beni comuni io voglio fare due appunti su quanto ho detto in primis occupandomi la questione acqua in secondo di quello che appunto ha anche l'effetto oppure le cause e conseguenze della guerra e coltano l'acqua me la sono scritta questa frase che trovo veramente importante che riguarda appunto la questione che è una risorsa esauribile ma indispensabile e io voglio puntare proprio su questo perché di fatto quando parliamo di acqua oggi giorno specialmente è forse una delle risorse più importanti ma anche una delle risorse più preziose e viene infatti nel mondo esterno specialmente in alcune zone dove ci sono zone di conflitto addirittura usato come arma di conflitto come arma di ricatto quindi di fatto con il rubinetto si può aprire e si può chiudere dato che è veramente indispensabile è proprio una arma a taglio fortissimo e questo è una questione sempre più pericolosa perché di fatto vede come chi specialmente oggi ne soffre sono proprio i paesi che sono più poveri e di fatto hanno necessità di chiedere di avere accesso all'acqua per sopravvivere e paradossalmente credo che anche questo di DL concorrenza sia una sorta di arma la privatizzazione di un bene comune come l'acqua è una sorta di arma nel decidere chi ha di privatizzare nel decidere a chi dare un bene comune così importante a chi non darlo come darlo e come farlo pagare e anche ricordare appunto quando valiamo comunque di utili di borsa eccetera così è chiaro che il fine non è tanto il benessere comune il benessere comunque dei cittadini ma è solamente di ricavare quanto più possibile quindi di fatti diventa anche qui un ricatto sempre più e sempre più quindi di fatto ci troviamo insieme a dover chiedere l'accesso all'acqua dovrebbe essere appunto ripeto un bene pubblico e in questo momento anche questo di DL concorrenza rischia addirittura di proprio bannarlo proprio dal pubblico e metterlo tutto in mani private il secondo punto ovviamente si connette a questo perché di fatto se parliamo ovviamente di arma di scambio di ricatto la stessa cosa vale paradossalmente per Coltano io ringrazio moltissimo ciccioletta per essere qua stasera ma anche per quello che si è instaurato insieme di collaborazione e di essere riusciti di fatti a fare rete quindi Simona diceva giustamente dobbiamo fare rete ecco questo potrebbe essere forse un esempio concreto di come siamo riusciti a fare rete e come di fatto dal locale dall'attenzione meticolosa dal lavoro meticoloso di un consigliere comunale siamo riusciti a costruire insieme un collegamento e farlo portare di fatto in Parlamento e renderlo così ancor più un caso nazionale di fatto Ciccio mi ha informato abbiamo parlato insieme di questa cosa doveva essere chiaro che subito doveva arrivare in Parlamento per essere chiarito per fare trasparenza per fare chiarezza e così abbiamo subito depositato un'interrogazione a seguito un'interpellanza urgente e abbiamo così ottenuto una risposta tra l'altro da parte del sottosegretario dell'istruzione che non so cosa c'entri con la difesa ma comunque una risposta c'è stata che tra l'altro ha visto anche come come di fatto l'intenzione del governo non è assolutamente di fermarsi davanti a questo progetto ma anzi continuare e vorrei forse anche ricordare è bene ricordare che a seguito della rimostranza dei cittadini delle istituzioni locali e del lavoro appunto di ciccioletta e di tutta la lista che lo sostiene di cui fa parte c'è stato comunque anche forse un po' un cambiamento di pensiero qualcuno ha fatto almeno superficialmente un'idea di cambio del tipo ma forse dovremmo fare da un'altra parte il Movimento 5 Stelle si è prodigiato a fare un ordine del giorno in Parlamento per dire magari potremmo spostarlo ecco forse anche qui io lo ripeto un'altra volta ciccio l'ha già detto noi lo ripetiamo un'altra volta per noi di manifesta non esiste il fatto che si sposti la base militare di qualche chilometro e lo ripetiamo esattamente all'altra parte perché sempre di base militare si tratta sempre di fondi del PNR si trattano e sempre del messaggio estremamente sbagliato si tratta nel momento nel quale italiani hanno bisogno di tutt'altro sostegno dopo una pandemia dopo venti di guerra piuttosto che un riarmo e una base militare ancora ed ancora e quindi concludo dicendo che in primis la questione di fare rete di lavorare insieme di fare in modo che possa esserci comunque una voce sul locale sul regionale sul nazionale può e deve portare risultati ma anche il discorso che la cittadinanza può portare la sua voce Pisa l'ha dimostrato di fatto la cittadinanza è stata molto chiara in questo senso no a Coltano né qui che da nessun'altra parte e paradossalmente sono stati costretti comunque ad ascoltare volente o nolente la voce e dire ok perfetto dobbiamo parlarne è chiaro anche che qui c'è bisogno di tenere alta l'attenzione su tutti i fronti abbiamo parlato di vari ovviamente questioni qui a Milano giù a Coltano ma in tutta l'Italia quindi l'attenzione deve rimanere alta la pressione deve rimanere alta ma io sono convinta che se vi è volontà e se vi è pressione se vi è connessione a rete c'è veramente la possibilità di riuscire anche a vincere per fare in modo che i beni comuni rimanghino beni comuni e il parco di Coltano come ad esempio rimanga un parco che è veramente meraviglioso e che fa tra l'altro in questo momento proprio così importante quello che è la cosa più bella cioè agricoltura biologica fila alla corta quello che è appunto la nostra produzione la nostra eccellenza grazie a tutti allora io nel ringraziarvi lo dico non abbiamo parlato di sanità avrebbe preso una serata unica solo parlare di quello non abbiamo parlato di trasporto pubblico che qua a Milano già si vocifera di nuovo di rimettere a gara non abbiamo parlato di scuola pubblica i temi quelli sono e quelli riprenderemo certo che l'abbiamo detto all'inizio la lotta è una sola noi stiamo dalla parte della costituzione dell'applicazione della costituzione Milano in comune si chiama Milano in comune finistra e costituzione perché finistra e costituzione per noi è un binomio inscindibile allora quel modello di cui abbiamo parlato tutta la sera quel modello di mercificazione di tutto di qualunque cosa di cui non solo il sindaco Sala ma il governo Draghi sono la massima espressione e meritano e meriteranno solo di andare a casa e di smettere di fare questi danni per noi la conclusione è quella che non possiamo accettare che continui a resistere una frattura tra istituzioni e cittadinanza perché questo è quello che è emerso stasera la cittadinanza attiva è la ricchezza che noi abbiamo ma oggi è l'evidenza del fallimento di questo modello la distanza l'allontanamento della partecipazione della democrazia e della volontà popolare lo dimostra il fatto che più della metà della popolazione italiana è contraria all'invio di armi e il governo continua a camminare su un cammino di guerra continueremo a muoverci continueremo ad agire il nostro compito anche nostro Milano in Comune nasce con quell'intento unificare per fare fronte comune perché banalmente l'unità è forza grazie a tutti e a tutti